A Tarquinio il Narducci verrà consegnata all'ex direttore editorialista di Avvenire il premio Narducci durante l'edizione appunto della festa che inizierà il 15 luglio a Lerici. L'ex direttore di Avvenire riceverà il premio il 19 luglio, lui che per tanti anni invece lo ha consegnato. E nel box a fianco trovate il programma saliente della festa che come detto comincerà il 15 luglio con la messa celebrata dal Vescovo. A centropagina un'altra serie di appuntamenti sempre a Lerici dove non ci sarà solo la festa di Avvenire ma anche i concerti all'organo Agati. Il primo appuntamento sarà lunedì prossimo. E a fianco suor ad Angela e il suo libro sul giglio dei mohans. A fondopagina Sarzana il programma dei centenari francescani visita i luoghi dei frati minori e delle clarisse. L'architetto Roberto Gelfi guiderà i partecipanti alla scoperta di antichi tesori d'arte e di fede tra cui gli antichi chiostri monastici. Queste le principali notizie che potrete leggere domani sull'inserto spezzino del quotidiano cattolico Avvenire.